Un sito osservato dalle riviste specializzate e dai più importanti enti di divulgazione scientifica in materia astronomica. Lo ha allestito e lo cura Marcella Pace, ragusana astrofotografa e insegnante di scuola primaria. Le sue foto sui fenomeni più suggestivi dell'atmosfera, tra analemmi, il percorso geometrico disegnato dal Sole nel corso di un anno e, osservato dallo stesso luogo e nello stesso momento del giorno, è foto meteore. Le hanno attribuito premi e riconoscimenti di rilievo internazionale. Marcella Pace, attraverso il Centro Ibleo Studi Astronomici, punta ad un'affermazione più incisiva dell'impegno degli appassionati nel territorio. Di certo a Ragusa c'è un'associazione che si sta muovendo proprio per questo, sarebbe il Centro Ibleo Studi Astronomici, il cui presidente è Salvo Pluchino, che è anche l'attuale vicepresidente dell'Unione Astrofidi Italiani. Quindi ci troviamo certamente in una situazione in cui, oltre a essere anche, fa parte anche dell'Inaif, ci troviamo certamente in una situazione in cui abbiamo delle risorse nel territorio, e che risorse vogliono fare, vogliono divulgare l'aspetto astronomico a Ragusa, nella provincia di Ragusa. Il Centro Ibleo Studi Astronomici si muove verso questa direzione, creando degli eventi, degli appuntamenti, che se volete anche il prossimo sarà giorno 12 a Modica. All'interno della pagina Facebook del Centro Ibleo comunque trovate tutto quello che è il calendario degli eventi. E di certo, ecco, è una risorsa che il territorio dovrebbe assecondare, soprattutto per la creazione di un centro dove poter fare delle osservazioni, come ad esempio un planetario, un osservatorio astronomico, anche perché, insomma, noi siamo anche la patria di Gian Battista Dierna, il grande astronomo che, insomma, ha vissuto dalle nostre parti. E quindi sì, sono chiunque invitato a partecipare a questi eventi e ad aderire, insomma, anche come socio alla nostra associazione. Quello della realizzazione di un planetario è obiettivo ambizioso, ma può bastare l'impegno degli appassionati o è necessario l'intervento istituzionale anche per le risorse economiche occorrenti? Si sta lavorando per questo e si sta cercando di sensibilizzare anche le amministrazioni riguardo a questo, perché comunque potrebbe essere un modo per arricchire ancora di più il nostro territorio e per avere veramente un occhio di riguardo anche verso il cielo e verso questa passione, insomma, per l'astronomia e soprattutto che regoli anche l'inquinamento luminoso dei nostri centri abitati.